Allora, Barbara, ciao carissima, ciao Tiziano, ci sei Tiziano? 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 Una cortesia Tiziano, dimmi solo una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi? Quella che vuoi? Una carta, quella che vuoi? Quattro di fiori. Quattro di fiori, ok, grazie, puoi mettere le cuffie. Barbara, un numero, che voglio io? Un numeretto? 60 no. No, un numero piccolo, un numero 6. Ora io ho qui un mazzo di carte, giusto? Allora, adesso io chiedo a Manuela, Manuela, piano lentamente, tira fuori le carte bene, in maniera perfetta, ok, bravissima, e porta 6 carte sotto il mazzo. Una alla volta, uno, due, tre, quattro, cinque e sei carte sotto il mazzo. Se questa carta fosse il quattro di fiori, è un miracolo. Sì, certo. Sarebbe incredibile la cosa, io non ho mai toccato le carte. Manuela, gira per tutti. Signori e signori. Quattro di fiori. Sì. Questa si chiama The Birdless Effeter, ragazzi. Devo saltare, devo volare. I perseguitori sverrebbero, però vabbè. Devo volare. Magic Boy colpisce. Grazie.